La rilevazione delle impronte trovata all'interno del casale dove è stato ucciso Manetti Le impronte pervenili che corrispondono a quelle di Maria Boncetto Musella, detta Mary Ma questa è una svolta Devo chiamare subito qua, ma grazie Pizzo Miconos Non abbiamo l'età per nessuna delle due, Rosario Non c'abbiamo l'età, non c'abbiamo l'età davanti E allora vogliamo fare pizza Facciamo in pizza, allora dai Facciamo in pizza Grazie Grazie